Per anni aveva rubato, come se fosse naturale, nella pasticceria in cui lavorava rivendendo i prodotti ad un altro esercizio o regalandoli a parenti ed amici. Nella giornata di ieri, a seguito di reiterate e denunce sporte dai titolari di un noto bar-ristorante ubicato in una zona centrale di Catania, il personale del commissariato Borgognina è indagato in stato di libertà a un soggetto, tale GS, pasticcere del suddetto bar per furto di merce varie all'interno di detto esercizio. Dall'attività investigativa è emerso che l'uomo dipendente da diversi anni da molto tempo era solito rubare prodotti di pasticceria per poi regalarli a terzi o venderli ad altre attività commerciali. I poliziotti hanno quindi individuato un'attività commerciale nella quale tali prodotti venivano venduti e a tal riguardo i titolari hanno confermato di acquistare in nero prodotti di pasticceria dal soggetto in questione. In base alle denunce sporte dai titolari il danno recato all'esercizio bar in argomento è rilevante anche per i costi elevati dei prodotti rubati, che vanno dai sacchi di pistacchio che costano oltre 100 euro a confezione a prodotti di marca, colombe, uova di Pasqua, liquori ed altro ancora. L'uomo avendo la fiducia dei titolari aveva le chiavi del locale dove entrava anche di notte prima di iniziare l'attività lavorativa facendosi coadiuvare tra l'altro anche da un complice. Dopo l'ennesimo furto la merce rubata è stata rimeduta all'interno dell'autovettura del pasticcere posteggiata proprio dai pressi del bar.